rosa maria davvero un esordio molto molto positivo una vittoria per 3 a 0 che emozione hai provato a scoprire questa che sarà la tua nuova casa e a vedere soprattutto di nuovo i tifosi al palazzetto è stata una bella partita una bella gran partita sono contenta del lavoro che la squadra ha fatto e poi ovviamente l'atmosfera ancora con i tifosi è bellissimo sentire questo un'altra volta sono molto contenta sono sicure che possiamo fare ancora tanto di più ma abbiamo fatto davvero un bellissimo lavoro il gruppo si sta creando pian piano